Quanto è buono il vostro Dio? Prima però mi chiedo come mai il libro sacro, il più manomesso del mondo, non cita Europa, Cina, Americhe o Australia? Forse perché il Dio della Bibbia non sapeva che il mondo oltre a essere piano è anche molto più grande? E non tirate in ballo la parola Chug, Houg, prima di aver guardato la meticolosa ricerca del video Versetti della Bibbia sempre per i predicatori. Secondo la Bibbia interlineare King James Version va tradotto con cerchio, circuito, compasso o secondo la Brown Driver Bricks, involta del cielo, che però viene tradotto come firmamento anche quando non c'è il termine Houg, come mai? E visto che ci siamo invito i testimoni di Geova dove nelle loro Bibbie il termine Houg lo traducono sempre diversamente, che vengono a commentare qui semplicemente copiando le loro pagine come questa dove si legge la parola ebraica Houg è definita circolo, sfera, in a concordance of the Hebrew and Caldia scriptures di Dave Davidson, che la parola sfera esiste solo una volta, a pagina 300, è un sostantivo maschile. E guarda, guarda, oltre a Isaia 40, 22, qui indica solo cerchio, sfera. Proverbi 8, 27. Ma nella vostra Bibbia avete tradotto quando tracciò l'orizzonte sulla superficie delle acque. Ovvio come si potrebbe fare a tradurre che tracciò un cerchio o una sfera sulle acque. Ma voi avete tradotto orizzonte, che non è previsto secondo quello che dice il vostro riferimento. Inoltre viene indicato Giobbe 22, 14. Ma non avete tradotto né cerchio né sfera, bensì mentre cammina per la volta celeste. Avete visto quante volte abbiamo trovato Houg? E solo su Isaia 40, 22 avete usato la parola sfera. Torniamo a Houg, e vi invito a prendere visione del video prima di commentare, perché lo stesso vocabolo è stato tradotto in cerchio o sfera, volta, globo, circolo, orizzonte, limite, a seconda del fabbisogno e magari sempre nella stessa Bibbia. Inoltre ci sono altre cose interessanti, dove viene inserita la parola globo al posto di terra abitata. Ma gustiamoci questa piccola parte di quel video. E lo vediamo meglio qui in Proverbi 8, 31. Qui non c'è il termine Chug o Houg. Interlineare, rallegrandosi nella parte abitata della terra. Testimoni di Geova, mi rallegravo della terra fatta per essere abitata. Un po' interpretata, è forse troppo, cari testimoni. Nuova Diodati, mi rallegravo nella parte abitabile del mondo. Giusto? Nuova riveduta 1994, mi rallegravo nella parte abitabile del mondo. Bene. Nuova riveduta 2006, mi rallegravo nella parte abitabile del mondo. Giusto? La cei dilettandomi sul globo terrestre. Sul globo terrestre? E quando mai? Ogni tanto dovete infilarci dentro globo, sfera, su termini che non la indicano minimamente. Bugiardelli di traduttori! Ma chiudiamo in bellezza grazie alla segnalazione di Antoine. Salmi 26, 12. Interlineare. Stavo su un suolo piano, a livello. Testimoni di Geova, il mio piede poggia su un terreno pianeggiante. Nuova Diodati, fermo in luogo piano. Nuova riveduta, 1994. Fermo in luogo piano. Nuova riveduta, 2006. Fermo in luogo piano. C'è il mio piede sta su terra piana. Il titolo di questo video è Quanto è buono Dio perché mi sono interessato ad alcuni versetti così mi sono posto la domanda. Che fine hanno fatto i primogeniti e richiesti da Dio che avevano solo 7-8 giorni? Non vi leggo tutte le versioni delle traduzioni dei versetti perché il senso è sempre quello. Esodo 22, 29. Non indugerai a offrirmi il tributo dell'abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi frantoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. Esodo 22, 30. Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame. Il loro primo parto rimarrà 7 giorni presso la madre, l'ottavo giorno me lo darai. Accidenti, si prende qualsiasi cosa del primo parto, animali e umani. È peggio del governo che richiede il pagamento delle tasse, ma qui è in natura addirittura i primogeniti della prole umana. Magari non è vero che fa questo perché in Geremia a 19.5 si smentisce. Hanno edificato gli alti luoghi a Baal per bruciare nel fuoco i loro figli in olocausto a Baal, cosa che non avevo comandato, di cui non avevo mai parlato e che non mi era mai venuta in mente. Ma come non gli era mai venuta in mente? Ma i versetti di prima e comunque sia in Geremia c'è un altro Dio. Allora non ce n'è solo uno, non c'è solo lui. E in Esodo 30.12. Quando farai il conto dei figli di Israele facendo il censimento, ognuno di essi darà al Signore il riscatto della propria vita, quando saranno contati, perché non siano colpiti da qualche piaga quando ne farai il censimento. Può far bacco. Anche nella traduzione dei testimoni di Geoa chiede un riscatto. Alla faccia della benevolenza. Mi sa che questo Signore proprio si comporta esattamente come un signorotto feudatario della nobiltà. Ma la domanda resta. Che fine hanno fatto i primogeniti di otto giorni che venivano dati a Dio? E non venite a rispondermi come si legge in 1 Samuele 2.11. Dopo Elcana andò a casa sua, a Rama, e il bambino rimase a servire il Signore sotto gli occhi del sacerdote è lì. Per i testimoni diventò un ministro. Ma non si legge da nessuna parte nell'Antico Testamento che è un primogenito dato a lui quando aveva otto giorni. Inoltre dovrebbe aver avuto un esercito di bambini primogeniti con tutti quelli che gli erano stati offerti. Pensate bene, gente, a quello che leggete sul Libro delle Favole, perché ogni religione di chi crede in Cristo, perché poi ci sono tutte le altre religioni, non scordatelo, valida e accetta come l'unica vera Bibbia solo la sua traduzione e rinnega tutte le altre Bibbie cristiane. Punto.